Vere e proprie star in Germania, molto conosciuti in Italia. Dirke Galuba, Sepp Schauer, Mona Seyfried, Joachim Lecce sono loro tra i quattro volti più noti della serie tv Tempesta d'Amore in onda in Italia su Rete4, trasmessa con seguito impressionante in Germania sul primo canale. Picchi d'ascolto che parlano di tre milioni di affezionati. Sturm der Liebe all'estero fa quindi registrare ascolti record in Italia, diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di questo genere. Hanno scelto uno degli alberghi più belli del lago di Caldaro, rinomata struttura della famiglia De Carli, per trascorrere qualche giornata di relax. L'amore per il pubblico italiano è dimostrato dalla volontà di salutare comunque, proprio in lingua italiana. Io sono molto felice e mille grazie per tutta la gente in Italia, mille grazie. Amo l'Italia sempre. Su SDF, con sorella di lingua tedesca di Video33, potrete seguire le interviste agli altri protagonisti di Tempesta d'Amore. Dirk Galuba esprime massima soddisfazione per il premio conferito dal pubblico germanico. Tra un autografo e l'altro, Sepp Schauer spiega il segreto di tanto successo, riuscendo a coinvolgere un pubblico più vasto possibile. Joachim Lecce si dice rammaricato di non aver ancora girato qualche episodio negli incantevoli scenari offerti dall'Alto Adige.